non c'erano le mani Come non ce l'hai? Sono occupato Sei stato fermo Sei sempre sciolto C'è mia moglie Appunto Vedi la mano di la moglie Vedi la mano di la moglie Colleghi? Sei sincera L'invasione è tremenda Sì, perché racconto in video su YouTube Ho scelto i mezzi pubblici E oggi l'invasione è trentina Ho scelto Sì Poi vengo al cuore E' anche bravo perché in realtà Siamo già fuori capienza Tecnicamente Anche normalmente fuori dalle enorme cose Sarebbe già Oltre capienza Senta Senta U medida Abbiate Mano Guardate Tra lang scholars Praticamente Fuori Guardate Traziano Quante vedete? Vi vedo where un sort Açadore Un POV in Trentino, in Trento, verso la non-trento musica rena. Italian man saluta! Italian man! maledetta maledetta sfortuna angelo non sembra non 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 sembra non Angelo, se facevi a 3 euro a birra facevi i soldi 5 euro a birra, bacio 5 euro a birra 5 euro a birra 2 euro a birra grazie gentilissimo sulle sostre ti metto su youtube